L'ho perduta la mia carica! L'ho perduta la mia carica! Ora si spegne, ora si spegne, ora si spegne! Sono ancora vivo? No, 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 ok! Allora, prevedo che sarà un parkurito veramente trollito, eh! Ok! Io non dico nada, eh! Io proprio non dico nada! Allora, oggi puntiamo al podios perché qui la situation è veramente grave, eh! Ma grave, grave, grave! Sui! Piano! Piano, regà! Andate piano! Ok! Ce la faremo, eh! State tranquilli! Ci vuole solo un briciolo di pazienza! Sali qua, sui! Sali per bene! Olle! Olle! E ci siamo! Oh mio Dio, che bel checkpoint! Fantastico! Proseguiamo! Proseguiamo! Il primero... E stewee? Oh, guardate, ma vuole fregare la prima posizione, eh! Noi siamo quarti! Ok! Saliamo su! Podios! Cosa è successo? Cosa c'è di difficile? Non lo so, regà! Noi proseguiamo tranquillamente! Perché la cosa migliore è stare tranquilli! Ecco perché è complicato! Ora! Ora capisco! Se riesco non casco giù, eh! Se riesco, se riesco, se riesco, se riesco, se riesco! Oh, sui! Scusami, scusami, colpa mia! Sui, se facciamo così, forse ce la faccio, eh! No, 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 no! Io non voglio cascare giù, io non voglio! Ah, nessuno ce l'ha fatta! Ok! È così complicato? Sembrerebbe di sì, eh! Perché non bisogna fermarsi! Per nessuna ragione! O sui, veloce! Ok! Aiuto giocatori in coda? Non l'ho messo! No, no, no! Ho messo scia, sì! Ok! Andiamo! La rega che ce la facciamo, eh! State tranquilli! Che abbiamo tutta la vita a disposizione! Dai, 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 sui! È veramente complicato, sapete? È un'altra spintarella! Rega? Perché sto silenzio? Cos'è successo? Ah, non c'è più nessuno! Ok! No, no, no! Sui, intoglio, troppo là, eh! Voglio solo fare manovra! Una manovra tranquilla! Rega, non fate caso a me, eh! Non fateci caso, ma io devo fare un drift e ripartiamo! Mamma mia che sui! Oh, rega, 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 rega! Devo andare al massimo io, eh! Che dite? Ci provo? Non so se loro poi vanno indietro! Ce l'hai fatta, sui! Ah, ha fatto bene il suino! Che ha preso il check in quella maniera? Oh mio Dio, ha preso il check, eh! Aspettati! No, 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 no! Non credo! Oh, sì! Credo di no, sapete? Perché quella era una buona tecnica, ma non credo che abbia preso il check! No, è veramente complicato, eh! Non è così facile! Poi con le collisioni diventa ancora più impossibile! Dobbiamo avere un briciolo di fortuna? Perché dobbiamo trovare la situation perfetta! Sì, qualcuno credo che ce l'ha fatta, eh! Usui, usui, usui! Mamma mia! Che sui, non vi trollo tutti quanti perché sono felice, eh! No, no, andate, andate, andate tranquilli! Regà! Bella gara, eh! Stupenda, wow! Qua c'è uno scivolo! Eh, trollato! Va bene! Tanto abbiamo preso il check, state tranquilli! Adesso... Era per di qua? Sì, sì! Usui, un attimo che devo stare dritto perché se no... Non vado da nessuna parte, eh! Ok! Vieni giù, sui! Che dite, ce la possiamo fare? Secondo me sì! Ok! Perfetto così! Abbiamo un bel checkpoint! Donald Trump è complicato qua! Occhio sui caschi! Regà, scusate il telefono, eh! Ok! Usui! Eh, aspettate, eh! Qui... Allora, come prima cosa devo spegnere sto telefono! Perché se no fa troppo casino! Ok! Un attimo, eh! Potevo mettere anche un taglio, però non fa niente! Proseguiamo! Allora... Stiamo tranquilli, eh! Oh, sui! Oh, sui! Come ti permetti, eh! Non te li permette! È inaccettabile il tuo comportamento, sui! Non te li permettere mai nella vita! Sto scherzando, sui! Mamma mia se te becco, eh! Te aro! Allora, io Donald Trump... Lo aro! Veramente, eh! Braciola, fa un po' di attenzione, eh! Mamma mia come trolla a sta parte! C'ha ragione! Però il sui non ce la fa! Ok, regà, c'ho un pochetto d'ansia, eh! No, no! Sui! Sui, sui! Scusa, sui! Ok! Andiamo! Wow, 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 sui! Con calma, eh! Fai tutto con calma, sui! Oh, 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 ok! Dai, così fatto! Ok, regà, micro manovre! Ma lo sapete quanto micro? Ok! Cos'è qui? Oh, mio Dio! Dimmi che c'è un check, eh! Ok, ok, ok! Andiamo qua! Perfetto, così! Andiamo qui! Comunque, scrivetemi nei commenti cos'è... Qual è il termine da dire quando una cosa è ancora più piccola del micro! Ok, e qui abbiamo il check! Ah, regà, ma qua c'è il saltino! Perfetto, così! Proseguiamo! Siamo belli primeri, eh! Devo dire che è stato un po' complicato perché abbiamo beccato un bel po' di traffico! Però, nonostante tutto, siamo usciti belli tranquilli da quella situazione! Qui è un bel GP sterrato! Proseguiamo con il nostro bel ribrator! Qui c'è il ponticello! Dove bisogna andare? Da sopra? Sì, 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 sì! Là, 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 là! Dobbiamo andare! Che spettacolo queste stardine in montagna! Vi giuro che sono fantastiche! Ok E lì cosa c'è? Ah, forse è quella la parte che ho visto nella miniatura! Vedete quella? Mega rampa ultrafina! Non la prima, ma la seconda! Dopo faremo quella bella mega rampa! Facciamo questo salto! Mamma mia sui! Che bel salto che hai fatto, eh! Scendiamo giù! Ok! Il check sta giù! Sì, sì! Asui, devo sparare in flip-flop? Oh mio Dio, oh mio Dio, asui! Un po' spericolato, però ce l'hai fatta! Ok! Andiamo! Ma... Ah! C'è il check qua! Ah, no, dobbiamo scendere giù perché lì c'era il saltino! Scendiamo qua! Mamma mia, che stradine fantastiche! Ogni tanto fare gare così è veramente bello! Poi anche io voglio fare una gara da queste parti! Ok! Ok! Andiamo giù un po' trollati ma ci siamo! Anzi! Ci siamo pure rigirati! Ok! E ora... Per di qua! Ah, dobbiamo fare il saltino? Credo di sì, eh! Però dobbiamo scendere giù poi! Sui, te salvi! Ce la fa secondo voi? Sì, 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 sì! Ce la fa! Per di qua, per caso? Non sono sicuro, eh! Dai, sui! Eh, aspettate, eh! Che Liberator si è emozionato! Dai, puoi scendere così però! Credo che l'unica via sia questa qui, sapete? Credo proprio di sì! No, 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 no! Se facciamo questi rimbalzi non ce la facciamo! Dobbiamo partire alla perfezione, eh! Ok! Aspettate, eh! Andiamo! Dai, che ce la facciamo! State tranquilli! Va bene, va bene, va bene! Accelera Liberator! Fatica, eh! Però ce la fa, ce la fa! Il check! Sta qui? Sì, sì, sì! Dobbiamo andare qua! Mamma mia che arampicata, eh! Allucinante! Saliamo su E poi dobbiamo girare a destra Credo di sì Perfetto così! Proseguiamo Cosa abbiamo qua? Ok Oh mio Dio, andiamo Oh, sui! Perfetto così Dai, che là c'è il check, eh! Quanto siamo alti? Eh, belli altini, eh! Ok! Ma se io faccio così Prende lo stesso il check, eh! Sì, ma devo respawnare Perché sono rimasto da un lato Ok Ripartiamo da qua No, no, non cascare giù, non cascare giù, non cascare giù Ma devo scendere qua per caso? Eh sì Il check dove è? Dov'è il check? Ah, ho capito, ho capito, ho capito Leviamo Questa visuale Dobbiamo attraversare qua Però io passerei per di qua, sapete? Ok Saliamo su Dopodiché C'è un bel check qui Perfetto così E ora Sta giù il check? Sì, sì Mamma mia, regà, è infinita questa gara È veramente infinita Però guardate là C'è una bella amiche rampa Che ora andremo a fare Ok Eccolo qui, un altro check Qualcuno mi ha raggiunto? Donald Trump, però Abbiamo un distacco di 2 minuti e 20 Questa volta sono io che ho dato un bel distacco ai suini Scusate un attimo, ma dove devo andare? Per di qua? Aspettate, aspettate, aspettate Che non capisco Nada Credo di sì Però non sono sicuro Oh mio Dio Dove sto andando io? Regà, mi sto perdendo, ve lo dico Ce la puoi fare, Liberator? No Aspettate, eh No, 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 no Sentite, respawniamo un attimo Ah, ok, 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 ok Credo che la via migliore sia questa qui, sapete? Sì, sì Facciamo la stradina Perché stavo per tagliare tutto quanto Invece è così facile Perfetto così Devo dire che queste stradine di montagna non sono così facili, eh Ok Andiamo qua Ma dobbiamo salire nel Monte Ciliad Non lo so, regà Andiamo Ok Mamma mia che mega rampa che c'è qua, eh Saliamo su Più veloce Sui Prima di domani Ok Andiamo Quanto manca alla fine? Ah, due check alla fine? Eh sì È finita la carerita Eh, qui stiamo andando belli veloci, eh Che spettacolo Asui Flippa, 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 flippa Fermiamo il flip Ok, ci siamo, eh E qui cosa abbiamo? Che parte è questa? Io mi trovo qua, eh Andiamo Ok Oh, sui Che sta a combina? Io non respawno, eh Oh, regà Non si ferma più sto liberator, eh Si è impazzito Si è impazzito Oh, regà Fermiamoci un attimo E ripartiamo Mamma mia, regà Ok Ci siamo Ah, e qui c'è la mia rampa ultra fina Abbiamo Rockstar Editor Wow, che spettacolo Bellissima questa gara, eh Che dita andiamo giù Cioè andiamo a prendere questa bella prima posizione Ma sì, dai Wow No, no, sui non cascare giù Regà, ma quanto siamo alti? Super alti siamo, eh Ma lì c'è la nostra bella Prima posizione Dai i sui Eccolo qui Comunque sia Se vi è piaciuta questa gara Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Sui ultimi su Instagram Salute i suoi Ehi bello A presto A presto